Siamo arrivati a portare il 50 milioni di euro E' il corsa, fantastico! Vediamo adesso! 3-10, se più, va giù, si può! E' il corsa! 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 Ma come va il corsa! Dai, corsa! Dai, corsa! E' il corsa! 29,89! Io ho preso 29,82! 29,9! Ah, 29,9! E'... 29,82! 29,8! No, il corsa! Pazzetta ha fatto 33,9! Ok! E' il corsa che è giù! 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 Vai! 32,97! 32,97! 32,97! E' il corsa che è giù! E' il corsa che è giù! Proprio da... Proprio da... Proprio da... E' il corsa che è giù! 28,9! 28,9! 26,5! Ma la mia! E' il corsa che è giù! E' il corsa che è giù! Dai, Marco! Dai, dai! Dai che lo recuperi! Dai, dai! Non mollare! Non ce la fa più! Non ce la fa più! 25,3 Pietro! 28,1! 28,3!